Questa è una competizione importante, in questa prima fase abbiamo l'obiettivo chiaro dichiarato di superare e di andare avanti. Sappiamo che è una competizione che comprende squadre molto forti, una competizione difficile, ma vogliamo andare il più lontano possibile, una competizione alla quale partecipiamo con ambizioni. Noi vogliamo andare il più lontano possibile, abbiamo ambizioni in questa competizione, ovviamente, e credo che comprenderanno questo, il nostro prossimo gioco. E ovviamente, immagino che comprenderete perfettamente che sappiamo che la prossima partita, dopo l'impegno di Europa League, sarà dopo appena un paio di giorni, quindi in questo senso bisogna anche rispettare i tempi di recupero dei calciatori e quindi a questo proposito sto pensando di apportare alcuni cambiamenti alla squadra, ma sempre con la massima fiducia e la consapevolezza che queste sono soluzioni valide, di garanzia, che ci danno appunto ampie garanzie per raggiungere il nostro obiettivo, che è quello di vincere questa partita, però ecco, è impossibile per me dimenticare e non tenere conto dei prossimi impegni. Un gioco tão prossimo e temos che pensare nisso também. O che eu sei é que esta equipa é uma equipa risciada de jogadores experientes, Rubinho... Su una cosa, ecco, non ci sono dubbi, e c'è che la formazione di Istanbul Basak Seir é una squadra con molti giocatori esperti, dalla lunga e brillante carriera ai vari Rubinho, Clichy, Turan, Visca, Skörtel, e poi è una formazione che negli ultimi tre anni ha sempre lottato per il titolo, il campionato Turco è un campionato molto competitivo, l'anno scorso ha sfiorato il titolo che ha mancato all'ultima giornata e che ne ha perso per appena due punti, quindi ecco, è una squadra che merita tutta la nostra attenzione perché non vogliamo farci sorprendere, perché è una squadra forte, con giocatori molto esperti. È un'especiale da nostra parte perché non queremos di maniera niente essere sorprenditi, perché sabemos che questa è una equipa forte e, come ho detto, risciada di giocatori esperienti.